In questa puntata di Obiettivo Impresa parleremo della mappatura della filiera tessile e dei contributi per i check-up energetici. Dopo le tessiture e le filature cardate è la volta della nobilitazione tessile. Terza tappa del progetto di mappatura della filiera tessile promosso dalla Camera di Commercio con il contributo del progetto Prato della Regione e la collaborazione di Confartigianato, Unione Industriale Pratese e CNA. La mappatura vuol tracciare un quadro completo sullo stato di salute del distretto. Sulle 147 nobilitazioni presenti la ricerca ne ha presa in esame 121. Quella scattata è una foto di un settore disomogeneo con vari gruppi e tipologie di aziende che spaziano dalla rifinizione di tessuti e tintori in pezza, che sono la stragrande maggioranza, alla tintoria di filati e alla stampa di tessuti. Il settore impiega 2850 addetti e produce un fatturato di 350 milioni annui. Dal 2011 al 2013 il fatturato è rimasto praticamente inalterato, con un picco negativo nel 2012 compensato da una ripresa dello scorso anno. Andamento simile per il numero di occupati, a testimonianza che le nobilitazioni sono riuscite a restare a galla anche nella crisi. Negli ultimi 5 anni non sono mancate le aziende che hanno fatto investimenti consistenti in macchinari e impianti, mentre mezzi sono rimasti pressoché gli stessi. L'altra faccia della medaglia sono i tanti che comunque non hanno fatto alcun investimento. Per quanto riguarda le prospettive e le aspettative, il 45% degli intervistati ha definito la redditività dell'ultimo quinquennio appena sufficiente, mentre il 31% l'ha ritenuta insufficiente. Se il 35% pensa che il settore è a rischio per la difficoltà ad effettuare nuovi investimenti, c'è un 33% che creda ancora nella funzione della nobilitazione come perno del distretto. È emerso che questo è un comparto che conta circa 120 imprese, che nel loro complesso fatturano oltre 350 milioni d'euro. E a tutt'oggi, nonostante tutto, ci sono ancora 2.800 persone che lavorano all'interno di questo comparto. È un comparto variegato, nel senso che comprende più fasi della filiera e che comunque, nonostante la scarsa redditività che c'è stata nel corso degli anni, si vedono anche imprese che hanno saputo investire in impianti e in macchinari. L'indagine è a completamento di un percorso che mette in evidenza la situazione reale di questa nostra città, di questo nostro distretto, su un settore, quello tessile, che ha subito negli anni un profondo e anche emblematico cambiamento. Una ristrutturazione notevole non solo nella capacità di produzione, ma anche nella capacità di proposta. Per poter svolgere delle politiche che mirano a risolvere determinati problemi abbiamo bisogno di conoscere e di sapere. Questo è l'obiettivo principale di questa indagine, arrivare ad avere un quadro chiaro, preciso e puntuale, su quella che è la situazione oggi della filiera tessile e pratesi. Contributi della Camera di Commercio per la realizzazione di check-up energetici. Le imprese richiedenti dovranno avere la sede operativa presso cui deve essere realizzato il check-up energetico nella provincia di Prato, essere iscritte al registro imprese della Camera di Commercio di Prato ed essere attive ed in regola con il pagamento del diritto camerale. Saranno messe a contributo unicamente alle spese documentate, al netto di IVA e di altre imposte, tasse e donere accessori sostenute per consulenza per check-up finalizzate alla valutazione del consumo di energie e al risparmio energetico, consulenza per check-up dirette all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Saranno ammissibili spese riferite a fatture messe nel periodo del 1 maggio 2014 al 15 ottobre 2014. Il contributo della Camera di Commercio sarà pari al 50% delle spese sopraindicate, fino ad un massimo di 3.000 euro ad impresa. Ogni impresa potrà presentare domanda per un solo check-up energetico. La domanda di contributo può essere trasmessa entro il termine perentorio del 14 novembre 2014.